Stefano Spagnoli, delegato per la Wisp della zona sud della Maremma e anche dirigente della Polisportiva Orbetello Scalo. Oggi Orbetello si è concluso il campionato d'inverno Mountain Bike Wisp. Allora Spagnoli, come è andata questa gara? Sì, è andata bene. È andata bene, il tempo ci ha assistito, i concorrenti erano più di 80 e è filato tutto liscio, non c'è stati incidenti, quindi questo è già tanto. So che si sono divertiti tutti, la classifica è rimasta pressoché invariata, credo. E poi il resto, niente, ora siamo qui, si procederanno le prime azioni. Ricordo che quest'ultima prova è anche la terza edizione del Memorial Barbara Baldi che noi ogni anno qui facciamo perché io personalmente ho preso l'impegno con la famiglia e vorrei portarlo avanti finché possa, quindi è già una bella cosa anche ricordare questa giovane ragazza che è scomparsa proprio sulla sua viscia, mentre andava sulla sua viscia. Niente, ora si procederà la prima azione e poi si mangerà tutti insieme e quindi speriamo che l'anno prossimo sia ugualmente una giornata di festa, di sport e che vada tutto bene.